Carissimi amici, buongiorno. Oggi una nuova puntata della nostra rubrica in salute. Parliamo di un argomento molto attuale, l'ozonoterapia. Se ne parla tanto in questi giorni perché è un potente antibatterico e un potente antivirale. L'ozono deriva dall'ossigeno. Attraverso una scarica elettrica molto potente l'ossigeno si trasforma in ozono, che è un ossigeno a tre atomi. Ha tantissime qualità questo ozono. Noi siamo esperti in ozonoterapia da circa 20 anni e può essere utilizzato non solo come antibatterico ed antivirale, ma noi lo utilizziamo ad esempio per la sciatica, per i dolori lombari, per ridurre l'ernia del disco. Lo utilizziamo per tutte le malattie dell'artrosi, la spalla, il ginocchio, per l'articolazione coxofemorale. Quindi che cosa andiamo a fare? L'ozono toglie il dolore, toglie l'infiammazione, è rivitalizzante, quindi riduce l'artrosi. Abbiamo dei protocolli specifici. Ad esempio utilizziamo un protocollo per la fibromialgia. Voi sapete che la fibromialgia è una patologia che ha poche terapie. Invece noi abbiamo studiato insieme al nostro staff di terapia del dolore un protocollo per cui andiamo a trattare i muscoli di tutto il corpo che sono interessati nella fibromialgia. Per quanto riguarda invece le difese immunitarie, noi abbiamo una grande esperienza anche in questo campo perché abbiamo studiato un protocollo di insufflazione intrarettale dell'ozono che ci consente di far arrivare questo ossigeno rafforzato a tutto l'organismo e quindi combattiamo le malattie dell'invecchiamento, combattiamo le malattie dove c'è una cattiva difesa immunitaria e anche i pazienti oncologici si giovano di questo rafforzamento del sistema immunitario. Noi l'ozono terapia lo utilizziamo anche per la pelle perché la pelle ha un ringiovanimento totale. Dove arriva l'ozono, dove arriva l'ossigeno, le malattie si combattono. È un trattamento naturale, ha un'azione quasi chirurgica ad esempio sull'ernia del disco, ma non è chirurgica, non è dolorosa, sono applicazioni molto semplici. L'unica attenzione che dovete fare è mettervi in mano a persone esperte perché tanti possono dire di fare l'ozono ma bisogna farlo bene perché l'ozono può essere fatto male e quindi non fare nulla ed è un peccato perché quando viene fatto bene da persone specialiste come noi che hanno una grande esperienza i risultati ci sono. Noi abbiamo migliaia di pazienti trattati fino ad oggi dalla nostra equip di terapia del dolore. Vi invito quindi a chiamarci se avete delle domande da fare ai numeri in sovraimpressione. Sapete già che Fisiomedica si trova ad Agropoli in via Nitti numero 1. Noi vi aspettiamo con le vostre domande e per farvi stare meglio con l'ozono terapia. A presto! Saremo tutti qui per una nuova puntata. Ciao!